Cifre record per Estra. Nei primi sei mesi dell'anno, la compagnia ha registrato ricavi per 490 milioni di euro, oltre 50 milioni in più e un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo 2015. Un accordo per ridurre la bolletta del gas e contenerla come voce di spesa è stato siglato da Estra Energie e da Confindustria Toscana Sud, a favore delle imprese delle province di Arezzo, Grosseto, Siena. Aumentano le vendite di luce e metano. I volumi di energia elettrica prodotti da Estra hanno raggiunto i 340 gigawattora, mentre sono 675 milioni i metri cubi di gas commercializzati. Completamente rinnovato, lo store Estra di Bibbiena, in via Rignano 17A, esteso anche l'orario. All'apertura della mattina, per tutta la settimana, si aggiungono i pomeriggi del lunedì e del venerdì.